Mani screpolate dal lavoro S.O.O.S. Glisolos Mani insegnate dalla giornata S.O.O.S. Glisolos Glisolos Ridona morbidezza le tue mani Perché è crema di crema ina Glisolos Lo specialista delle mani I nani I nani I nani I nani I nani Come cacarsela in ogni situazione Always Nell'improbabile caso di una collisione Mantieni la canca Estrai dalla tasca mento white always Consuma un chuiniush e inizia a cacare Sfoderà ora un sorriso dal bianco appaggato Conflitto epitato Ripeti i passaggi da 1 a 3 Ogni volta che ne hai bisogno Mento white always E sorrirosi di più